amici benvenuti ad un nuovo video come vedete quando c'è il mio loghetto di sfondo vuol dire che invece della mia faccia vi faccio vedere un po di immagini e argomento di oggi è cercare proprio di unire i puntini su una serie di argomenti in realtà su uno che li collega tutti e parliamo di nuovo di QAnon in un'altra ottica cioè per farvi come ho detto collegare due puntini per cui vediamo un po di quali notizie vi volevo parlare oggi ultimamente si parla molto di ciò che accade anche a noi che siamo ad internet ormai la nostra vita si è ridotta all'uso di internet proprio perché siamo segregati un po dentro casa e quindi stiamo molto tempo sui social ci sono coloro che sono a favore delle decisioni prese del governo ci sono coloro che ci hanno sui vari social l'immaginina con scritto io sto a casa e ce ne sono altri di cui io faccio parte che hanno messo la scritta io sto io voglio uscire cioè per manifestare la volontà di ritornare al possesso dei nostri diritti civili quindi anche la libertà di movimento ma oggi volevo parlarvi un po della libertà del movimento online di quanto siamo liberi di esprimerci anche online come sapete anche canali come bio blu e diversi personaggi stanno muovendo una campagna proprio a favore della libertà di espressione sul web che sembra non sembra diciamo abbiamo visto come viene censurata soprattutto su certi argomenti ed è anche un po di quello che stiamo parlando noi oggi perché anche a quell'argomento tanto innominabile ultimamente è legato il tutto e ovviamente parliamo del nuovo sistema di comunicazione che stanno implementando e stanno mettendo appunto in diversi punti del mondo compresa la nostra italia come vedete però parto dalla russia ecco qui una notizia che è già un po datata è di settembre 2019 che però ci parla della russia in cui appunto un blogger che si chiama vladislav sinizza è stato addirittura condannato a cinque anni per un tweet possiamo anche leggere un po di righe dell'articolo ma insomma si parla di un giro di vite messo in atto dal governo russo proprio contro coloro che manifestavano diverse cose in realtà questa persona è stata condannata io ve l'ho portata come esempio ma ha scritto delle cose molto forti dicendo addirittura che figli di poliziotti che stanno facendo queste operazioni di repressioni potessero andare a finire protagonisti dei video snuff e snuff movies come molti sapranno sono quei film in cui si vedono realizzare omicidi o crimini o violenze dal vivo reali che vengono ripresi e poi c'è un giro nel deep web di tutte queste immagini che appunto vengono vendute anche a grossissime cifre per gli amatori purtroppo che esistono di questo tipo di genere ma vi voglio far notare questa notizia per dire che alcuni paesi hanno preso provvedimenti anche già da un po di tempo come vedete 2019 in realtà anche da prima riguardo a questo tipo di manifestazione di espressione online un'altra notizia che arriva sempre dallo stesso paese come vedete qui 170.000 telecamere sono state installate in giro per la città di mosca e lo dicono qui chiaramente introducendo un sistema di riconoscimento facciale il che è già problematico di suo no perché quindi vuol dire che saremo rintracciati e saremo identificati in ogni momento perché sappiamo che già le telecamere esistono per tutti i circuiti chiusi che vi ricordo anche essi sono hackerabili quindi tutto ciò che viene registrato sostanzialmente può finire nelle mani di chiunque e noi non ne siamo a conoscenza e questo è un altro argomento poi che riguarda il questo che riguarda tutto questo no proprio la fine che fanno e chi è che gestisce tutti questi big data come vengono chiamati ma appunto a mosca e sappiamo che anche a vuan sappiamo che anche in zone della cina sono state introdotte queste telecamere che grazie al riconoscimento di alcuni punti specifici del nostro viso il mento gli zigomi eccetera si fanno proprio una mappa della nostra faccia in modo da poterci riconoscere e trovare in ogni momento quando vogliono proprio grazie al fatto che le telecamere sono sempre più frequenti in realtà le tecnologie che lavorano sulla biometria non si occupano solo del riconoscimento facciale ma del comprendere diversi aspetti per riconoscerci dal modo di camminare alle nostre abitudini tante altre cose l'accesso a questi dati come leggete può essere acquistato sul mercato nero e proprio di quello anche appunto è un aspetto di quelli da tenere sotto controllo cioè anche di quello appunto dicevo dovremmo preoccuparci perché non solo vengono acquistati da altre aziende con altri fini che servono comunque a monitorarci ancora di più anche dal punto di vista del dell'essere noi consumatori ma possono essere hackerati ora non tanto per tutta la gente diciamo normale ma per chi fa dei lavori particolari che può anche essere messo sotto ricatto o semplicemente perché ha dei grandi capitali tutto questo può influire molto ecco il fatto di essere tutto rintracciabili online vi faccio notare un'altra cosa quest'altra notizia invece sulla svolta del facebook russo che è un social che si chiama vcontacti addirittura come sapete anche qui da noi una famosa applicazione viene usata ritenuta un po più sicura delle altre a livello proprio di criptografia di come protegge le chat tra gli utenti e in questo articolo si parla del fatto che appunto questo sito of contatti che è una sorta di facebook però fatto e sviluppato dai russi diciamo è molto più usato tra i giovani anche in russia ha attivato una battaglia per rendere i profili dei propri utenti privati cioè proprio contro gli attacchi delle autorità come vedete non del governo degli hacker ecco proprio dal fatto che i dati privati dei cittadini degli utenti di questo social network potessero essere usati dalla cittadinanza cosa che in realtà in alcuni paesi proprio in russia è successa ci sono cause di persone che proprio grazie alle telecamere col riconoscimento facciale sono state arrestate per esempio in momenti di manifestazione e poi hanno dovuto pagare la la pena proprio perché riconosciuti tramite quelle telecamere lì c'è stato anche un ricorso da parte di una donna che appunto riteneva una violazione dei diritti di privacy e invece anche questo è andato a perdere quindi è stato confermato la attuabilità di questo tipo di tecnologie da parte almeno di alcuni governi e come dicevamo però vedete che certe aziende lavorano al contrario diciamo e quindi tendono ancora a proteggere gli utenti la cosa che vi voglio fare anche notare è che quella questo articolo lo troviamo sulla gazzetta di parma che appunto si dimostra di essere giornale interessato e di tutto rispetto quindi dove possiamo trovare queste notizie fornite nella maniera corretta ma ora vi faccio vedere un qualche cosa e vi porto a ragionare su un altro argomento per mostrarvi la differenza perché ho messo l'accento sulla gazzetta di parma perché appunto è un giornale però che possiamo considerare minore anche solo per estensione di vendita essendo la gazzetta di parma non è un giornale a carattere nazionale invece se prendiamo per esempio il corriere della sera che qua vi ho messo sulla sinistra e il la repubblica che troviamo sulla destra leggiamo questi li potete leggere voi ce li avete appunto vi ho messo le foto leggiamo due articoli però dove possiamo anche vedere i toni di come vengono esposte le cose possiamo quindi cercare di farci un'idea su la direzione che ha un certo giornale una certa testata anche di queste online come vi dicevo appunto rispetto per esempio al modo di presentare una notizia che troviamo sulla gazzetta di parma in questo caso o quello che c'è sul corriere della sera riguardo questa doppia bufala leggetevi l'articolo così capite di quale argomento si parla e vedete come viene esposto poi sarete voi a giudicare se le informazioni lì ritenute sono corrette o meno proprio parlando di chi è complottista chi è quindi che maschera la verità perché diciamo che se c'è poi una questa è una mia nota personale ma se esiste o esisterà poi una battaglia contro coloro che vengono chiamati complottisti e vengono accusati di spargere informazioni fasulle bisognerà poi andare in fondo e discutere di quelle informazioni se davvero lo sono fasulle o meno motivo per cui credo che su determinati argomenti vale la pena se si è attaccati di continuare la battaglia legale che eventualmente ne può scaturire ma andiamo avanti sulla destra invece trovate un altro articolo della repubblica vi dicevo che parla dello stesso argomento parlando e appunto etichettandolo subito come complottismo e ci spiega e qui segue un filologico ci spiega che sta dilagando questo complottismo in gran bretagna nella foto si parla di birmingham in cui vedete un'immagine di una torretta di queste antenne emittenti e riceventi riguardo appunto la tecnologia satellitare ultima che stanno implementando che vedete a video quindi non vi dico il nome perché tanto lo leggete e ci siamo ben capiti ma appunto non solo a birmingham anche in altri posti stanno succedendo delle reazioni del popolo come vedete in questa foto invece vediamo uno del popolo anche diciamo abbastanza sorridente direi e invece gli ufficiali della polizia inglese in questo caso che lo portano via e questo è collegato a quello che abbiamo visto finora cioè ecco l'articolo a manchester la polizia ha lanciato un numero verde per scovare i complottisti cioè proprio a seguito del fatto che molte di quelle antenne di quei pali con le antenne venivano presi d'assalto da diverse persone che evidentemente si come dire oltrepassando i limiti che in sé che consente la legge quindi facendo qualche cosa di illegale però stavano chiaramente manifestando in maniera sbagliata ma il loro desiderio che quelle tecnologie non non vengano messe e in quest'articolo ci spiegano che la polizia appunto di manchester sui vari social usando varie forme per fare una sorta di campagna vera e propria campagna mediatica hanno deciso di scovare tutte le persone che qui definiscono non allineate cioè complottiste ossia non allineate al pensiero però è questo che dobbiamo riflettere quando non ci si allinea un pensiero si è un regime perché vuol dire che c'è il pensiero del regime che deve essere quello e quando noi non siamo allineati vuol dire che la pensiamo in maniera diversa questo ci fa davvero riflettere anche su la condizione nella quale viviamo dobbiamo riflettere sulle libertà che abbiamo che magari a volte crediamo di avere ed infatti eccola qui che vi faccio vedere proprio il post fatto dalla greater manchester police dove dice le piattaforme online possono essere un mondo molto divertente ma sfortunatamente possono anche essere usate per approfittarsi di persone vulnerabili se siete preoccupati che voi i vostri amici la vostra famiglia mostrino segni di radicalizzazione cercate informazioni e chiamate della polizia al numero 101 eccolo lì e vedete proprio online radicalizzazione questa parola così come se noi ci stessimo radicalizzando in un qualcosa di malvagio di oscuro quando invece sono solo persone come il sottoscritto che stanno cerca come tutti voi che stanno cercando di capire la situazione di porsi delle domande di fare quello che io da tempi non sospetti vado dicendo che è corretto e cioè rimanere con la porta del dubbio aperto con la voglia di comprendere e non credere subito di aver capito tutto io in questo video vi fornisco qualche spunto finale vediamo che voglio arrivare da una parte ma la riflessione anche è su appunto selezionare capire chi e come ci dà le notizie capire leggere a volte la notizia in quello che non c'è scritto nelle righe che non ci sono quello dobbiamo chiederci tante volte non è il perché ma è il perché no e perché appunto tanti giornali non parlano di certe notizie io vi ho parlato di delle notizie dei bambini salvati sia in belgio sia in inghilterra sia in spagna ma non le ritroviamo sui giornali maggiori questo ci deve far capire qualche cosa e invece ecco chi è che se ne è occupato quel giornale la padagna che è il giornale che riporta il pensiero della lega ora entro in questo argomento velocemente io addirittura sul gruppo ho detto di non parlare mai di politica perché non è un argomento che in realtà mi interessa trovo tutti i personaggi politici messi lì apposta per fare un teatro che è quello che noi dobbiamo osservare trovo che siano altri più in alto con più potere che poi prendono le decisioni sopra i politici ci sono le lobby sopra ci sono insomma di fianco c'è il sistema bancario ci sono meccanismi assolutamente più potenti anche in una certa misura quello mediatico più potenti di quello politico in realtà ricordiamocelo anche noi come popolo non dovrebbero avere potere i politici ma solo il potere di attuare le decisioni del popolo che sovrano ricordiamo queste cose ma appunto vi dicevo quel giornale che invece si è occupato di raccontare il fatto che esistono forze di polizia che fanno campagna per scovare quelli che chiamano complottisti questa notizia ce l'ha riportata la padania la padania è il giornale come dicevo di riferimento di del partito della lega e allora dice davide che cosa stai cercando di dirci non lo so vi voglio fare unire i puntini voglio che siate voi a fare una riflessione però la lega come vedete qui questo è l'urban post giornale che ho trovato che riportava la notizia sempre di quelli minori appunto che però ci racconta che la lega ha occupato il parlamento ha protestato contro questa fase 2 di salvini quindi mettendosi no dall'altra parte rispetto alle decisioni governative dimostrando la loro proprio facendo una dimostrazione per dimostrare scusate il gioco di parole proprio il loro dissenso hanno passato la notte in aula come vedete dice anche matteo salvini siamo qui a rappresentare quella categoria di cittadini che il governo sta trascurando e in un certo senso forse ovviamente non è legato proprio ai complottisti ma intende probabilmente quello che ha detto stanno cercando di manifestare e di essere dalla parte di tutti quei cittadini che il governo sta trascurando e mi piace leggerla così come ecco insomma mi pare già giusta come frase perché vi ho fatto fare tutto questo questa serie di collegamenti arriviamo all'ultima immagine che avevo pensato per questo piccolo video per farvi capire un qualche cosa che poi stasera nel video che sto per fare questa sera oggi che 30 di aprile spiegherò anche un attimo come si legge un qualche cosa che di cui parlerò stasera che è l'orologio di q quindi il q clock che può riportare con mette inserendo i termini che cerchiamo a alcuni drop passati fatti da q anon e e come vedete questo è un drop di vediamo se trovo la data 29 luglio 2019 in cui il famoso account americano cita proprio insomma americano il famoso account sì che si è sempre collegato alla casa bianca cita proprio matteo salvini il primo ministro italiano e dice è allineato con potus potus per chi non lo sapesse è una sigla che vuol dire president of the united states quindi quando dicono potus si parla del presidente americano e quindi appunto matteo salvini è allineato con potus e se vedete nella parte appunto dove c'è addirittura il numerino di riferimento dice proprio salvini is a patriot e un patriota la parola si traduce già da sola in questo caso non è inteso come un patriota americano o uno al servizio di specificatamente trump in questo senso si intende un patriota nel senso proprio puro del termine è un qualcuno che lavora e ama la propria patria lavora per la patria e la ama tutto questo era un insieme di appunto unire i puntini per provare a inquadrare la situazione come sta andando in questi giorni ecco poi questo era una spiegazione che mi piaceva lasciare così compatta qui poi nel video che faremo stasera quindi poi per chi capita dopo su questo video la live del 30 aprile approfondiremo un po' i discorsi che appunto qui abbiamo aperto per ora vi ringrazio un abbraccio un saluto e al prossimo video un saluto agli amici della pizzeria dal gallo che hanno voluto sponsorizzare e dare una mano al canale quindi se siete dalle parti di reggio emilia san martino in rio passateci così gli portate un saluto da parte mia quindi